Massimo risultato col minimo sforzo, il Montegiorgio espugna il Dei Marzi di Avezzano conquistando la quinta vittoria consecutiva e lasciando ai Biancoverdi la mare in bocca per una sconfitta aggiunta al termine di una prestazione in colore condizionata da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Formazioni, Giampaolo si affida al 4-3-3 e lancia dal primo minuto i nuovi acquisti Mattia Bruni e Falou Samb al centro dell'attacco assieme al confermato Manari, panchina per l'alto ne acquisto Fulvi. Nel Montegiorgio Massimo Paci risponde con sbarbati pellizzi albanesi a completare il 4-3-3 in cui Vecchione prende il posto dell'infortunato Calamita. Avvio di gara soporifero in cui è il ghiaccio del Dei Marzi a farla da padrone. La prima emozione arriva all'ottavo con Albanesi che pennella per la testa di sbarbati ma Fanti è provvidenziale e sventa il pericolo. L'Avezzano appare remissiva e fatica ad impostare una manovra avvolgente. Il primo pericolo degno di nota arriva alla mezz'ora da un tiro cross di Daniel Di Nicola che per poco non sorpende Menegatti, l'esso ad alzare la sfera sopra la traversa. Al 45esimo altro squillo del Montegiorgio. Da un errore in disimpegno di Fanti, Prosmans rifinisce per Pellizzi che mette in mezzo ma Fanti si riscatta bloccando la sfera. I primi 45 minuti sono tutti qui. In avvio di ripresa si vede Falusamb, girata mancina del senegalese dal limite dell'aria ma palla che termina alta sopra la trasversale. 60 secondi dopo i marchigiani rispondono. Dalla destra suggerimento per Albanesi che calcia in porta ma è ancora Fanti a salvare il risultato. 4 minuti più tardi Giampaolo richiama in panchina Fanti per Sinato e Bruni e Di Renzo per Padovani e Puglielli, disegnando un più propositivo 3-4-3. Al decimo però è ancora il Montegiorgio a farsi minaccioso. Incornata di Pellizzi e Sinato risponde in angolo. Sul corner seguente Ghiani fa partire un controcross dalla sinistra per lo stesso Pellizzi che deposita per l'1-0 dei marchigiani. Seconda rete in campionato per l'attaccante classe 99 dopo il sigillo messo a segno contro il Castelfidardo. La partita dell'Avezzano si complica maledettamente al quindicesimo. Besana scalcia a Proismanz a gioco fermo, il direttore di gara Gandolfo vede tutto e sventola il rosso in faccia all'esterno marzicano. I bianco-verdi in dieci provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma di pericoli veri dalle parti di Menegatti non se ne vedono. Al 26esimo Giampaolo gioca la carta Fulvi per uno spento Manari. Paci replica con l'ex fermana Nasic e Marchionni per Albanesi e Rozzi. La reazione dell'Avezzano è tutta nella conclusione di Fulvi ma l'estremo marchigiano ha vita facile e blocca la sfera. Al 44esimo il Montegiorgio ha la palla del KO. Sbarbati scappa via sul filo del fuorigioco, Sinato esce bene ed evita il raddoppio. Al 46esimo assalto disperato dell'Avezzano. Tariuk, sombrero e tiro verso lo specchio ma è Biasol a salvare in prossimità della linea. Finisce qui. 5 su 5 per il Montegiorgio, secondo KO di fila per l'Avezzano. Biancoverdi attesi mercoledì alla trasferta di Castelfidardo. Vero e proprio crocevia della tribolata stagione marzicana.